Miliani-Viccolò, corsia 2 Il mondo è promulgato a Urucci, mano del circolo Mondo Luca Il primo è promulgato a Pondola Duccio e Nessie Mondo Sono pronta la partenza per la 50-10 ma parte via de Cazzo e Nella Massi Corsia 1, Cessi Giulio, mondo 10-2-3 Corsia 2, Nellievo Centri Marteo, la 6-5 Corsia 3, Cucone Antonio, mondo 2-0 Corsia 4, Mori Viglia, ancora Mascone Corsia 5, Gradaiano Pietro, genievo in tempo del 6-7, classe l'esercito Premiazione 10-12 maschi ragazzi, un'età 15-16 anni Terzo è un passo di capo, Tranchi Vuccio, modo 2.0 Il secondo è un passo di capo, però con il giugno, con la remoto collonica Il primo è un passo di capo, Rossi Marco, amatore nome in collonica